segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te c'è nel senso devono mettersi d'accordo con se stessi forse questi sono detti tantissime cose insomma da sta santoro in poi ne ho sentite parecchio ci ho preso appuntamenti al flash andiamo per fresco così allora il problema di santoro e speculazione con gli accordi di minsk si perché santoro se vuole fare quello imparziale deve sapere che negli accordi di minsk delle responsabilità dei obblighi non se l'ha presa solo ucraina ma se l'ha presa anche la russia quando l'ucraina ha detto che dava lo status di autonomia a donbass cambiava la costituzione lo status di autonomia doveva essere discusso come giusto che sia con i rappresentanti della donetsk e lugansk che dovevano parlare delle loro pretese del tipo di autonomia che lo voleva per la regione per parlare con l'autorità di donetsk e lugansk uno doveva fare le elezioni e il punto era proprio quello di minsk agreement che all'ucraina diceva dovevano arrivare alla demilitarizzazione della zona da i rifugiati dovevano tornare nella regione fare le elezioni e con governo eletto poi l'ucraina il centro chi si sedeva a discutere sul tipo di negoziato vero proprio sul status di autonomia la russia invece diceva che no non vuole ritirarsi da donetsk e lugansk la zona rimarrebbe militarizzato affinché la russia poi c'aveva ovviamente la possibilità di influenzare le elezioni e quindi non c'è stato nessun ritiro delle truppe per questo che non si è ritirato e quindi io trovo altamente ipocrita da parte non solo di santoro ma tanti altri come santoro parlare solo delle responsabilità ucraina in non implementazione poi questi accordi si trovano online che qualcuno scaricasse se la leggesse bene siccome ci sono i documenti dice uno li approfondisca come vanno approfonditi allora dobbiamo andare